Grazie alle eccellenze del settore agroalimentare, le esportazioni dell'Abruzzo sono aumentate oltre il 7%, mentre l'occupazione in agricoltura è aumentata quasi del 9%, con 37.000 nuovi occupati. Sono questi i principali dati forniti dall'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, intervenuto a Lanciano all'inaugurazione della 18esima edizione di Agroalimenta, fiera dei prodotti tipici che chiude domenica 27 novembre e per la prima volta con ingresso gratuito. Alla fiera prendono parte circa 100 espositori provenienti da tutta Italia. La rassegna, ha ricordato il presidente Franco Ferrante, avrà anche un epilogo lunedì 28 novembre, per i soli addetti ai lavori, con una giornata dedicata esclusivamente allo spumante e alle bollicine nostrane, a cura del consorzio Tutelavini d'Abruzzo. La provincia di Chieti, ha aggiunto l'assessore Pepe, l'ammiraglia regionale sulla produzione viti vinicola, seconda solo in Italia a quella di Trapani. Gli stand dei due padiglioni allestiti a Lanciano Fiera offrono prodotti tipici provenienti dalle province d'Abruzzo e da altre regioni, declinati al salato e al dolce. Ce n'è per tutti i gusti, l'auspicio degli organizzatori è che l'ingresso gratuito in fiera possa favorire gli acquisti. Grazie a tutti.